Continua l'esperienza del giovane messinese Paolo Marino con la rappresentativa nazionale LNT Under 17. Il centrocampista del GESCAL classe 2002 prenderà parte al 48esimo trofeo città di Arco intitolato a Beppe Viola e si confronterà con i pari età di Milan e Lazio e con la rappresentativa del Senegal. Un grande riconoscimento per Marino recentemente in gol con la rappresentativa allenata da Salvatore D'Urso nell'amichevole con la selezione abruzzese e punto fermo sia della prima squadra che sta lottando per la conquista della salvezza nel campione di promozione che degli allievi regionali biancoverdi. Da sempre attento alle dinamiche del calcio giovanile, il GESCAL del presidente Vanarello infatti lo scorso anno ha conquistato il primo titolo della propria storia con gli allievi provinciali.